Stiamo per entrare in un numero di giorni, di sette giorni, che sono veramente la fine del mondo. Non la fine del mondo, quello che immaginate voi come qualcosa di estremamente dannoso. Perché abbiamo l'esistenza di due valori. Una data, che è il 13.08.2016, che per pure virtù di matematica è un multiplo esatto di 381. 381 è un valore particolare in Bibbia. Sono le dimensioni lineari dell'arca di Noè. 300 cubiti di lunghezza. E quegli 81 sono 50 di larghezza, 30 di altezza e 1 di altezza del tetto. Ma sono anche i valori esatti del numero su cui si imposta la sezione aurea. La quale sezione aurea ha queste prerogative. Da alcuni riconosciute virtuali, espressioni straordinarie di rapporti al limite della santità. Infatti, togliendo a mille, il principio mille che contenga uno reale che si muova di 999 volte, fa sì che 999 meno 381 determina il valore di 618 che è la quantità decimale nella sezione aurea, che è 1,618,0. Nelle prime cifre significative, nelle 10.000 intere, che sono 618,0, quindi sono intere a livello del mille, delle migliaia. 381 è il valore base che, ponendo una realtà a quattro dimensioni assolute, ossia 100, quindi ponendo una realtà a 400, e mettendoci dentro un 19, che è un movimento puro di 1, che sta in un 10 che avanza di 10, e per cui questo 1 sta nel 20. Occupando 1 nel 20, quando si muove, si muove di 19. Quindi il 19 è tutto il movimento di 1 nel ciclo che si muove interamente. E quando c'è tutto questo movimento di 1 nel ciclo che si muove interamente, dentro il 400, si muove per 381. Allora, quando questo 381 è esattamente multiplo di un valore che porta a una data, abbiamo un valore molto indicativo. Se prendiamo la fila delle colonne che ci sono sulla destra, abbiamo tutta una serie di date, perché 1,08 e 1, agosto, 1659. Vedete, questo è un multiplo esatto di 381, ma manca, per essere una data legata a quest'anno, al 2016, mancano 357 anni. Il multiplo della data 2,8 è questo, 1784, ma mancano 232 anni. La data 3,8 ha il multiplo nel 1909 e mancano 107 anni. La data del 4,8 ha il multiplo nel 1653 e mancano 363 anni. e così via, fino ad arrivare al 1308, 2016, che è un multiplo esatto di 381. Ma è un particolare multiplo esatto, perché 381 si deve moltiplicare per 34.336. Ora, il 34.000 presenta il 33.000, che indica, praticamente, ma osserviamolo in maniera diversa. Il numero è 34.339, quindi scorporiamo 33.333, che è esattamente il terzo di quel 99.999 che è in 100.000, 100.000 è il lato dell'area che è 10 elevato a 10. L'area di 10 miliardi è data da 100.000 per 100.000. ma quando questo 100.000 ha uno dentro, che si muove di 99.999 volte, in modo trino, ciascuna delle tre parti si muove di 33.333. Quindi, la prima componente di questa data è tutto il movimento che esiste di uno in un lato, mentre negli altri due ce n'è altrettanto, perché tutto il movimento è proprio 100.000 in unità. E quindi abbiamo il valore totale del movimento per quanto ce n'è in un lato solo, in una linea sola su tre. Il valore che si aggiunge al 33.333 per diventare 34.336 è 1.003 ed è quanto vale in principio. Il valore in principio cubico è 10 al cubo, 1.000, il valore elementare dello spazio è 3. Quindi abbiamo una unità, 1.003, che vale in principio e si aggiunge a tutto quel 33.333 che c'è su una sola linea perché c'è anche nelle altre due e il totale è 100.000. Quindi abbiamo veramente che 34.336 è tutto il movimento. Poiché anche 381 è tutto il movimento unitario, quando si moltiplicano l'uno con l'altro viene una data perfetta a indicare un'area totale di movimento perfetto e porta alla data esatta del 13.8.2016. Ora abbiamo il Papa che ha eletto il 2016 anno santo speciale della misericordia di Dio. Abbiamo il 15.8 che è il giorno dell'ascensione di Madre Nostra che cosa succede? Succede che il 13 che è una data perfetta gioca a fare la cavalletta proprio nella serie della sezione aurea in cui ci sono due valori che si sormontano l'uno sull'altro. abbiamo un 2 un 2 e un 4 è la sezione aurea che parte così e il 13 diventa 15 ascensione di Madre Nostra e facendo cavalletta sull'ascensione della Madre Nostra arriva all'ascensione del Padre Nostro. Ora come vedete bene abbiamo due valori uno che deriva esclusivamente dalla matematica perché il 13 data così perfetta è in relazione solo a un calcolo matematico il giorno 15 dell'ascensione di Maria Santissima è un dato che ci viene dalla fede cattolica il 17 ascensione del Padre Nostro sarà un dato che verrà precisato nella realtà perché come dice ogni cosa di questo progetto divino il 381 in questione è il nome segreto del Padre Nostro che è Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo uguale 381 che è la composizione esatta di tutta la scala aurea della sezione aurea questo per quanto riguarda le coincidenze tra nomi e numeri quello che manca solo a tutto ciò è la coincidenza tra questi dati semplicemente numerici e come dire che potrebbero essere casuali con la realtà di un qualcosa che deve accadere il 17 a Romano Antonio Anna Paolo Torquato ossia a chi vi parla per il quale io sia tolto di mezzo perché posso essere soltanto tolto di mezzo da un qualcosa che a tutt'oggi non è prevedibile per ragioni di salute perché sto benissimo non è prevedibile per nessuna altra condizione di disturbo se non un po' di lol che non hanno niente di meglio da fare che a chi fa vedere cose come questa coincidenze come questa curiosità oggettive come questa contrappongono giudizi sulla persona non hanno niente da dire e allora dicono sei un cretino sei uno da ricoverare è possibile mai che questa gente è la sola che disturba io non ho altri al momento che mi diano disturbo sono qui tranquillo in pace in casa non attaccabile per ragioni serie da parte di nessuno se non forse da quell'islam deviato che potrebbe essere piuttosto incavolato nei miei confronti perché sono andato a dimostrargli che il nome di Allah è romano perché co rano ha in quel rano le iniziali una etrina di romano la r di rano è la prima le tre sono le ultime tre cifre di romano e manca soltanto perché rano sia romano om ma questo om è stato om esso da ma om etto e allora questo maometto che ha omesso nel corano om essendo un ma ometto infine lo metterà questo om e rano diventerà romano e corano diventerà con romano e il corano dovrà essere letto e interpretato con romano ecco questa che si è trasformata poi in una opera di letteratura che è presente su isu.com in cui io spiego all'islam come devono leggere il corano perché è tradotto tutto in italiano e ci sono tutte le note che devono tenere presente in quella lettura ecco questa è l'unica occasione che potrebbe rendermi un bersaglio di costoro ma vedete non sono ancora troppo appetibile forse il Signore mi renderà appetibile perché una cosa è scritta in Bibbia chiaramente nel capitolo 19 di Genesi ci fu un nipote di Abramo di nome Lot che fu super e quando i due messi del cielo parte di una terna che erano andati a parlare con Abramo furono lì e due di essi si recarono a Sodoma ci fu Lot che corse da loro e gli disse non state qui sulla piazza perché è pericoloso per dei forestieri venite a casa mia quelli resistevano ma Lot infine riuscì a persuaderli e quando infine costoro entrarono la gente si accalcò intorno alla casa e voleva proprio ottenere quello che i sodomiti fanno sodomizzando ma non vorrei metterci delle mie parole per cui io vi leggo il testo proprio di quello che è scritto in Genesi capitolo 19 quei due angeli arrivarono a Sodoma sul far della sera mentre Lot stava ancora seduto alla porta di Sodoma non appena li ebbe visti Lot andò loro incontro si prostrò con la faccia a terra e disse ascoltatevi prego miei signori venite in casa del vostro servo vi passerete la notte vi laverete i piedi e poi domattina per tempo ve ne andate per la vostra via quelli risposero no ma passeremo la notte sulla piazza allora egli insistette tanto presso di essi che andarono da lui ed entrarono nella sua casa egli fece per loro un convito cosse dei pani senza lievito e così mangiarono prima che andassero a dormire ecco che gli uomini della città di Sodoma s'affollarono intorno alla casa giovani e vecchi tutto il popolo al completo chiamarono Lot e gli dissero dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte portaceli fuori perché vogliamo abusare di loro allora Lot uscì verso di loro sulla porta e dopo di aver chiuso il battente dietro di sé disse no fratelli miei non fate del male sentite io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi pare purché a questi uomini voi non facciate niente perché sono entrati all'ombra del mio tetto ma quelli risposero tirati via e aggiunsero costui è venuto qui come straniero e vuol fare da arbitro ora faremo a te peggio che a loro e spingendosi violentemente contro quell'uomo cioè contro Lot si avvicinarono per sfondare il battente allora dall'interno gli uomini sporsero le mani trassero in casa Lot e chiusero il battente e quanto agli uomini che erano alla porta della casa li colpirono con un abbaglio accecante da più piccolo al più grande cosicché non riuscirono a trovare la porta tra gli uomini poi gli uomini dissero a Lot chi hai ancora qui il genero i tuoi figli e le tue figlie e tutti quelli che hai nella città falli uscire da quel luogo perché noi stiamo per distruggere questo luogo è grande il grido al cospetto del Signore e il Signore ci ha mandati per distruggerli Lot uscì a parlare ai suoi generi che dovevano sposare le sue figlie e disse alzatevi uscite da questo luogo perché il Signore sta per distruggere la città ma parve ai suoi generi che egli scherzasse quando parve l'alba gli angeli fecero premura a Lot dicendo su prendi tua moglie e le tue due figlie ed esci per non essere travolto nel castigo della città Lot indugiava ma quegli uomini presero per mano lui sua moglie e le sue due figlie per un atto di misericordia del Signore verso di lui le fecero uscire e lo condussero fuori dalla città ora quando li ebbero fatti uscire fuori uno di essi disse fuggi si tratta della tua vita non guardare indietro e non fermarti dentro la valle fuggi sulla montagna per non essere travolto ma Lot gli disse no mio Signore vedi il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai dimorato hai dimostrato la tua grande misericordia verso di me salvandomi la vita ma io non riuscirò a fuggire sul monte senza che la sciagura mi raggiunga e muoia vedi questa città è abbastanza vicina per potermi rifugiare in essa ed è una piccolezza lascia che io mi rifugi in essa non è una piccolezza è così la mia vita sarà salva gli rispose ecco io ti favorisco anche in questo di non distruggere la città della quale mi hai parlato presto fuggi là perché io non posso far nulla finché tu non vi sia arrivato perciò il nome di quella città fu Zoar ecco non vado avanti a leggere avete capito vero che Lot si comportò veramente in un modo super ora tra i lettori della Bibbia ci sono soggetti che dicono che la Bibbia è un racconto di frottole ma io vi dico che se è vero che questo signore che è in me che è venuto in due angeli su di me e che andrà in cielo il 17 assieme a me sono simili ai due angeli che andarono a trovare Lot e che furono salvati da Lot io vedo e capisco che tra oggi e il giorno 17 accadrà qualche cosa proprio in relazione a questo brano che io vi ho letto ci sarà il super Lot che farà uscire un bel 6 a favore di questa condizione e allora comincerà anche un altro motivo per cui sarà possibile dare la caccia a Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo perché se sarà favorito in questo modo come è scritto in 19 1 in Bibbia allora voglio vedere cosa diranno tutti coloro che dicono che in Bibbia non è scritto proprio niente e riferiti a me dicono che io racconto un sacco di fesserie ecco stiamo a vedere che cosa succede perché quando uno vede che le cose stanno così potrebbe comportarsi in un modo furbo e non dire niente oppure potrebbe chiaramente coraggiosamente dire come stanno le cose ed è quello che faccio io con coraggio ma vedete questo coraggio a persone che non ne hanno sembra il comportamento di uno sciocco per loro chi è coraggioso e pone in atto delle verifiche perché quella che io vi sto portando avanti è una verifica chi pone le verifiche e vuole che esistano le verifiche non è un fanfarone il fanfarone è chi emette giudizi senza che ci siano verifiche io desidero che ci siano le verifiche perché qui vedete sta accadendo proprio sotto gli occhi di tutti quello che è descritto puntualmente nella profezia di Daniele che si conclude il 17 di agosto nel 1335 come giorno dopo l'abominio della desolazione in cui uno se ne andò uno che dissipava la fede ebraica ossia Gesù Cristo perché chi ha dissipato la fede ebraica è stato Gesù il dissipatore perché in tutto quello che era il filone unitario dell'ebraismo ha inserito anche il cristianesimo quindi vedete che divino dissipatore e questo divino dissipatore se ne è andato proprio come l'inizio di quel giorno di cui Daniele racconta e cessa il sacrificio quotidiano proprio suo perché fino a quando venuto in parusia tra i cristiani il povero Cristo è stato trattato dai cristiani allo stesso modo con cui il povero messia di Israele è stato trattato dagli ebrei ecco non riconosciuto quando non era riconosciuto quel Cristo che era a cavallo di me come un asino e che andava verso il suo secondo supplizio ha cessato finalmente questo sacrificio quotidiano di non vedersi riconosciuto nemmeno dai cristiani e quando se ne è andato in quel 21 12 12 secondo il calendario maia laddove i maia sono in America se ne è andato alle ore 2 del giorno 22 nel luogo santo di Israele dove io l'asino portatore ero andato e ho vissuto alle 2 di notte l'uscita da parte del mio corpo di tutta una corrente elettrica che era quel flusso che era entrato in me il 4 giugno del 1940 quando era entrato Gesù a salvare il suo Abba che era morente salvandolo per la seconda volta il suo Bar Abba dove Bar è quel Bra Sit Bar indica il duo di una R o di un R A Romano il ballottaggio chi volete salvare Gesù o Barabba attraverso la morte di Gesù Gesù salvò Barabba ora per giustizia questo Barabba sarebbe stato salvato di nuovo però con un Gesù che non se ne va ma ritorna per giustizia perché se è una prima volta per salvarlo ha dovuto morire lo salva la seconda volta ritornando in vita e così il 4 giugno del 1940 Gesù montò su questo asinello su quale c'erano già Padre e Spirito Santo troppo essenziali per essere visti troppo uguali a zero che è il valore più potente che esiste nella realtà perché è l'unico numero che combinandosi con ogni altro numero lo rende uguale a sé un numero può essere grandioso e potente finché volete ma quando lo combinate con zero diventa zero perché zero è il numero più forte è il numero più grande ma l'uomo non vede la grandezza in che non è niente vede la grandezza in chi è ma per fare poco il Signore ci deve mettere molto per poter costruire un millesimo solo un millesimo il Signore deve impegnare mille invece per costruire un decimo che sembra più grande di un millesimo il Signore ci mette solo dieci per costruire uno ci mette uno vedete l'impegno del Signore è tale che quando uno è piccolo aggiunge tutto quello che gli manca per l'unità perché con il Signore che è uno egli rende uno tutti quanti e più uno è piccolo più la parte che il Signore ci mette per renderlo uno è grande uno vede uno piccolo ma non riesce a vedere che cosa ci mette il Signore quando uno è addirittura zero il Signore ci mette tutto ecco ma quello zero a cavallo di me ha fatto vedere solo me e di conseguenza vedete la vita è così ora queste sono le condizioni queste sono le cose che stanno per accadere c'è un numero particolarmente significativo c'è una data particolarmente significativa perché è l'ascensione di Maria Santissima e c'è quell'altro che è proprio quel valore che emerge dalla profezia di Daniele 1335 giorni dopo quel giorno in cui Gesù per la seconda volta ripete Dio Dio perché mi hai abbandonato mi hai abbandonato ora anche con i cristiani mi abbandonasti con gli ebrei mi hai abbandonato con i cristiani perché mi hai abbandonato per la seconda volta ecco l'abominio della desolazione di cui ha parlato il profeta Daniele e mettendoci 1335 giorni dopo quel 21 di dicembre del 2012 arriviamo esattamente al 1708 del 2016 esattamente quattro giorni dopo questa data così pulita proprio perché qui si gioca una cavalletta tra un valore perfetto sotto il profilo numerico una data perfetta sotto il profilo della religione cristiana e resta solo da confermare che tutto questo accada nella realtà e io che pongo tutto questo accadimento come una cosa che deve esistere per essere attendibile sono onesto perché potrei dire prendetemi in parola invece io non dico prendetemi in parola dico queste sono le cose questo sembra che sta per accadere vedete e vediamo un po' tutti se accade perché ripeto io sto bene non ho al momento avversari anche quelli che potrebbero essere legati alla fede islamica sono troppo lontani e per me non hanno alcuni interessi a meno che io non vinca il super enalotto vincendo 121 milioni di euro a questo punto io divento uno sotto l'attenzione di tutti e si rendono conto gli islamici che io che sono sotto l'attenzione di tutti sto dicendo Allah è venuto in me ecco a quel punto io posso diventare un bersaglio secondo anche logica allora può darsi che le forze del male si coalizzino contro chi sta parlando per adesso io ho coalizzati contro di me solo una manciata di ragazzotti che sono fanatici di chi non crede nella Bibbia di chi non crede in Dio di chi non crede nemmeno in Gesù Cristo e quando gli dico Gesù lo conosco perché è stato in me ridono perché secondo loro la testimonianza che do io non conta proprio nulla perché io sarei un soggetto malato proprio malato da essere ricoverato cari amici vi saluto e staremo a vedere grazie a tutti